C'è anche Menfi tra le località insegnite delle 143 bandiere verdi dei pediatri 2021, assegnate da un team di professionisti italiani e stranieri nei confronti dei comuni virtuosi sotto l'aspetto pediatrico, correlato alla fruizione delle spiagge indicate a misura di bambino. Il litorale di Menfi è tra quelli che riescono a garantire spiagge con spazi fra gli ombrelloni e acqua che non diventi subito alta, presenze di attività ludiche, servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, presenza di locali di relax, svago e divertimento per i genitori. La chiave di lettura è che è in vacanza l'intera famiglia. Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione, riferimenti sono le strutture istituzionali e pubbliche, la soddisfazione dell'amministrazione comunale di Menfi. Sono molto felice di aver avuto assegnata al Comune di Menfi la seconda bandiera verde da quando ci siamo noi, diciamo noi questa amministrazione mauceri. E' importante perché il turismo non è solo il turismo del divertimento, è il turismo delle famiglie, è il turismo enogastronomico, quindi il turismo delle famiglie che permette ai bambini in tutta sicurezza di poter fare il bagno nella nostra spiaggia che percorre l'altezza adeguata per i bambini poter fare il bagno. Anche a proposito delle barriere architettoniche per rendere il vostro litorale fruibile ai disabili state facendo qualcosa di particolare? Sì, è la nostra intenzione dal momento che ci siamo insediati assieme all'assessore Curreri, ma devo dire tutta l'amministrazione in tutti i settori, ma specie nel settore turistico, stiamo provvedendo a togliere tutte le barriere architettoniche perché il turismo deve essere alla misura di tutti, delle famiglie, delle persone che hanno problemi di questo genere e di chi vuole assaporare il nostro territorio che è a misura veramente della diversità del turismo che noi vogliamo attirare e attrarre. Un riconoscimento che si aggiunge alla bandiera blu? Sicuramente è un valore aggiunto perché la bandiera blu parla giustamente di acque pulite, cristalline, servizi e turismo, però questa è proprio a misura di famiglia e il nostro è un turismo di questo genere, non solo perché abbiamo questi fondali bassi e sabbiosi, ma perché ci sono anche dei servizi prestati proprio al bambino, soprattutto ma anche giovanile perché abbiamo il calcetto, abbiamo il bici volley, abbiamo tante associazioni sportive che fanno queste prime lezioni a tutti i bambini, infatti si vede che proprio le famiglie vengono anche per questi servizi. Grazie.